buongiorno buongiorno a tutti vi diamo aggiornamenti sui cuccioli ecco la mamma lasciatela stare lasciatela stare ragazzi questo messaggio è chiaro loro non sono assolutamente portatori di coronavirus eccoli qua mi parlo io che li ho a casa e quindi vi posso assicurare che questi piccolini e che anche i vecchietti assolutamente non sono portatori di coronavirus quindi continuate ad adottare e non abbandonate i vostri amici a quattro zampe vero vero